I 5 esami più difficili nella facoltà di giurisprudenza, reputati quasi impossibili da tutti gli studenti. Quinto posto per diritto romano, con una difficoltà di 8.1 su 10. Al quarto posto abbiamo diritto privato, con 8.9 su 10 di difficoltà. Medevi di bronzo per l'esame di diritto penale, con un punteggio per difficoltà di 9 su 10. Al secondo posto abbiamo diritto commerciale, uno degli esami più difficili in assoluto, con 9.3 su 10 di difficoltà. E per te qual è l'esame più difficile della tua facoltà? Fammi sapere con un commento e se ti piace questa serie di video, seguimi. Al primo posto l'esame più difficile della facoltà di giurisprudenza, è uno dei più difficili in assoluto, con ben 9.5 su 10, è procedura civile.